lo diede ai suoi discepoli e disse prendete, mangiatene questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena allo stesso modo prese il calcio e prese grazie lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetele tutti questo è il calcio del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede signora non vuole dove mi dici che stia qui signora non vuole dove mi dici che stia qui signora non vuole dove mi dici che stia qui signora non vuole il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza signor Pedrato signora non vuole il tuo figlio signora è il pomido signora non vuole il tuo figlio ma il tuo figlio grazie sott'ottocchio grazie signora non vuole Barnum gli guardate questo grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.